Un nuovo importante appuntamento del Club Donegani grazie all'infaticabile determinata caparbietà, forse oserei anche dire ma in senso molto positivo, del Dottor Traina che ancora una volta ci stupisce rispetto alla capacità che ha avuto di raccogliere in un unico grande contenitore una serie di ricercatori e anche quindi una serie di riflessioni che pone alla città in un momento in cui è importante non solo rilanciare la chimica ma farla diventare segno del motore di sviluppo davvero di questa città come d'altro canto, come lo stesso Dottor Traina ha sottolineato oggi durante la conferenza stampa, come d'altro canto è stato negli antichi splendori di questa città che è vissuta davvero grazie anche alla chimica. Penso a quello che potrebbe essere il nuovo motore di nuovo di sviluppo, di crescita, di innovazione che ruota intorno non solo al Donegani ma alle industrie che già sono presenti sul nostro territorio ma che penso, che spero, possano diventare anche competitive da un punto di vista dell'attrattività verso le nostre aree industriali. illustreremo il programma che è articolato su due cicli, uno riguarda le ricerche attualmente in corso presso l'Istituto Donegani e quindi l'apporto della chimica allo sviluppo delle energie rinnovabili, delle energie non da carbone, non da fossili e l'altro ciclo riguarda invece la presentazione di un gruppo di nuove attività chimiche e chimiche farmaceutiche che costituiscono veramente il fiore all'occhiello della provincia di Novare che vanno sostituendo gradualmente quella che era la vecchia Montecatini e Montedison di una volta. Il dettaglio in più, i cicli sono articolati su quattro conferenze ciascuno una riguarda la Cheme Elective, la prima conferenza che sarà tenuta il 2 aprile poi ci sarà una conferenza tenuta dal dottor Pier Felice Ferrari che è il direttore della Takeda la Takeda è attualmente un impianto produttivo a Cerano ma è previsto che si amplierà notevolmente a seguito dell'assorbimento da parte della Takeda di un altro grosso gruppo giapponese per cui il centro di Cerano pare che sia destinato a diventare il primo centro produttivo della Takeda in Europa. Altre due conferenze riguardano la Columbian che è un centro di eccellenza per la produzione del nero di carbone a trecate e la quarta, sempre di questo ciclo qui, riguarda la Sud Chemie Catarist Italia che come è noto è stato un acquisto dei tedeschi ma è la prima grossa attività nel campo dei catalizzatori che è sorta a Novara a partire da 1950 per merito del sottoscritto e dei suoi collaboratori tra i quali anche l'ingegnere, in prima linea, l'ingegnere Andrea Bertone. Il secondo ciclo, invece, che riguarda le ricerche delle donne cani vedrà come i relatori il dottor Fusco, la dottoressa Meda e altri due giovani ricercatori che parleranno non solo dell'apporto per l'energia solare ma anche per l'energia alternativa da biomasse. Grazie.